Bostien, felice per il gol, purtroppo non è servito per vincere la gara. E questo sì, io sono felice per il gol, ma quando squadra perde non ci sono felice, così è un periodo difficile per noi, ma guardiamo avanti, guardiamo la prossima partita che è molto dura, ma andiamo avanti tutti insieme. Incredibile l'azione del secondo gol della Fiorentina. Questo è calcio, non lo so, quando lasciamo un pochettino di spazio con questi grandi campioni sempre paghiamo, anche questa sera, così. E giovedì sera vi aspetta una partita ancora più difficile. Sì, Roma è in questo momento una squadra più forte in questo momento. Per noi sono adesso tutte difficili, perché questa serie A e anche contro Roma è una partita molto difficile per noi. Cosa serve per voltare pagina, cambiare l'andamento? Guardate, noi lavoriamo molto bene, prepariamo partita per partita molto bene, anche giochiamo bene, così non so che cosa si cambia, ma speriamo che arrivi una vittoria e dopo si cambia tranquillamente solo.